It's a kind of magic It's a kind of magic Cosa pensi del progetto Interscuse? Penso che sicuramente è un torneo, il miglior torneo che abbiamo mai partecipato L'ambiente è bellissimo Niente da dire tutto questo, arbitri, staff In una parola? FABOLOSO E' una bella esperienza Un bel torneo di calcio Un bel modo per incontrare una persona Un bel modo per incontrare anche altre persone Alla fine con Abbatte e Fatti siamo ragazzi Con persone che non conosciamo più Per persone che non conosciamo più Per persone che non conosciamo più sicuramente No, ma c'è l'agonismo però... Fantastico Il progetto Interscuse è un grandissimo progetto È davvero organizzato brillantemente Grandissimo personale Sono ormai facendo parte del progetto Interscuse da circa due anni Prima in Serie C Lo stagione in Serie C e questo in Serie B2 Mi sono trovato davvero benissimo E spero di poter, diciamo, vivere questa esperienza ancora bene Il soggetto serio Uno dei migliori Il Palermo è stato del migliore Organizzatore di Prasi Molto ben organizzato Che è bello Che ti dà tanti stimoli comunque Perché c'è competizione però c'è agonismo E' sportività Il progetto Interscuse appunto è un progetto molto famoso a Palermo Veramente meraviglioso Così, insomma, è un punto di aggregazione Dove ci possiamo divertire moltissimo E sinceramente mi sento in famiglia Quindi lo consiglio assolutamente Beh, interscuse è divertimento Stare assieme, stare in compagnia Divertirsi, sportività Insomma, interscuse è un grande ambiente Dove stare sempre assieme e in compagnia Che voto dai a Progetto del School da 1 a 10? 9 Direi che l'organizzazione è buona L'ambiente è bello Ed è sempre un piacere venire qui a giocare 9 8 e mezzo Perché più avanti può andare ancora più in alto 10 Ma io do un bel 9 Un bel 9 perché è un ottimo torneo organizzato benissimo C'è un bel ambiente Organizzatori simpatici, staff pure Tutto molto bello Quindi sono contento di giocare in corso per me Consiglieresti un amico di venire qui a Progetto del School? Sì Che si possono fare Vedi i road day su tutte le stelle Si conoscono tante persone Follows Perché, come dice la sigla, è un centro della creazione È perché c'è un buon ambiente È perché ci si diverte È perché ti diverti È un sano divertimento E basta Conosci tanta gente Ti fanno un sacco di foto Ti fanno un sacco di classifica Un sacco di video Sì Stai inserendo un sacco di persone Con gli amici E nel mettere a praticare lo sport È bellissimo Impari a volere bene le persone I valori dell'amicizia E della fratellanza Scriviti all'inter-school È bellissimo Scriviti all'inter-school È bellissimo Se uno gli piace giocare al calcio è bellissimo Come passatempo Scriviti all'inter-school Perché Intanto c'è un ambiente bellissimo Tutti Cioè Ci conoscono tutti Fai nuove amicizie È molto interessante E poi Ti diverti sempre Cioè diverti sempre Anche se non vinci Magari Comunque Cioè è vero anche Vedersi ogni settimana Commentare le partite Darsi a fare Impegnarti per cercare di migliorare Tutte queste cose non contribuiscono A farlo diventare un'esperienza molto Significativa In casual Cioè Non perdi il tuo tempo Se ti devi iscrivere Anche tu Sempre più Col progetto Interschool Questo è l'Interschool L'originale